roventa pro perfect eco è un ferro da stiro a caldaia dalle grandi performance studiato per le casalinghe più esigenti il dg 88 60 monta una piastra micro steam con 400 micro fori in grado di garantire potenza e scorrevolezza incredibili la sua caldaia interna fornisce vapore caldo alla pressione di 5,5 bar in soli due minuti ed è dotata del sistema calcaway per la rimozione del calcare che consente una manutenzione facile e senza problemi roventa pro perfect eco è anche attento ai consumi la sua esclusiva tecnologia consente di regolare in modo ottimale la potenza consentendo un risparmio energetico del 20 per cento nato per soddisfare le casalinghe più esigenti roventa pro perfect eco dg 88 60 si dimostra un sistema di stiratura completo e performante